per la biblioteca della ciopi esce agente riccioli d'oro di elemato critico illustrato da alberto vasquez riccioli d'oro la protagonista della celebra rima fiaba dei tre orsetti diventa in questo caso un agente speciale in grado di risolvere tutti i piccoli grandi problemi che nascono nella vita quotidiana del bosco delle fiabe lei è un agente speciale specialissimo che con grande ironia con dei dialoghi molto spumeggianti e divertenti diventa l'anima risolutrice di tutti i problemi del bosco per la biblioteca della ciopi agente riccioli d'oro di elemato critico con le illustrazioni di alberto vasquez